Ordini? Ordini? Formazione! Sì, signore. Pronto! Formazione! Formazione! Pronto, signore! Pronto! Pronto all'azione! Pronto, signore! 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 Grazie a tutti. 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 Pronto. Comandi. Comandi. Grazie a tutti. Ordini. Ordini. Formazione. Comandi. Sì, signore. Sì, signore. Grazie a tutti. Si, signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ordini. 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 comandi. 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 formazione. comandi. 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 Pronto. comandi. comandi. mengladı. comandi. 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 Pronto all'azione. Sì, signore. Attento. Ordini. Pronto. Attento. Formazione. Pronto. Formazione. Sì, signore. Pronto. Pronto. Ordini. Ordini. Formazione. Pronto all'azione. Pronto, signore. Formazione. 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 Pronto. Formazione. Ordini. Pronto. Attento! Comandi! 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 Grazie a tutti. Pronto! Pronto all'azione! Pronto! Ordini! Pronto! 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 No, no. Comandi! Pronto all'azione! Pronto! Pronto, signore! Comandi! Pronto! Pronto all'azione! Comandi! Comandi! Formazione! Pronto all'azione! Formazione! Formazione! Pronto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, signore. Pronto, signore. 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 Grazie. 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 Formazione. Pronto, signore. Pronto. 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 Grazie a tutti 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 Ordini Formazione Grazie a tutti Grazie a tutti Comandi Grazie a tutti Pronto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ordini Formazione Ordini Pronto Grazie a tutti Pronto Grazie a tutti 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 Pronto Grazie a tutti Formazione Attento Grazie a tutti 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 Pronto Grazie a tutti 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 Formazione Pronto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Pronto Pronto Grazie a tutti 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 Pronto Grazie a tutti Grazie a tutti Forza Forza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Pronto Formazione Grazie a tutti Attento Pronto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Comandi Grazie a tutti 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 Comandi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti